Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. In Fipili ricordiamo che sono in corso lavori di miglioramento della sicurezza, l'altezza del turbone e possibili disagi alla mobilità tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Ultima pagina in riferimento al proseguire della fase 2 dell'emergenza sanitaria, ricordiamo che da domani, lunedì 18 maggio, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione o controllo. Siamo al traffico urbano di Firenze da domani, 18 maggio, sosta gratis per due settimane in 14 autorimesse private nel centro di Firenze. Segnalami inoltre che da domani riaprono inoltre i parcheggi per scooter in via dell'Anguillara e via del Parione. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!